Sono state tre settimane intense, tre settimane di lavoro molto duro ma anche di passione perché vedere nei volti dei partecipanti poi la soddisfazione e ricevere tantissimi complimenti per l'organizzazione, sicuramente abbiamo raccolto i frutti di un lavoro biennale che ricordo è cominciato nel 2019 quando abbiamo vinto la candidatura e riuscire a portare 32 nazioni perché sono state 32 le delegazioni che sono giunte a Pesaro, essere riusciti a destagionalizzare anche la stagione turistica è sicuramente un motivo di soddisfazione e di orgoglio per il nostro comitato organizzatore. Questa città ha da anni questa vocazione agli eventi sportivi, questo ha una sua unicità anche in questa durata molto lunga che è quasi un unicum nel suo genere. Sì, siamo riusciti a raggruppare ben tre campionati europei, ricordo quello di aerobica, quello di acrobatica age group competition che significa per atleti ancora in fase di sviluppo dal punto di vista agonistico e poi il campionato europeo vero e proprio di acrobatica. Tre settimane che, come dicevo, hanno contribuito in questo suo unicum, come dicevi, ad allungare la stagione turistica perché ricordiamo che sono arrivati 1.500 persone che hanno consentito a tantissimi alberghi di non chiudere i battenti il 13 settembre, bensì il 4 di ottobre. 1.500 atleti che hanno praticamente riempito la città di Pesaro, città di Pesaro che purtroppo invece non ha risposto al richiamo di questo evento internazionale. Alla Vitrifrigo Arena abbiamo avuto soltanto pubblico straniero, quasi zero gli biglietti staccati purtroppo per i nostri concittadini, ma questo probabilmente anche a causa di una scarsa campagna di informazione da parte della stampa, a parte Rossini TV che ci ha sempre seguito dall'inizio alla fine, tutti gli altri organi hanno, non voglio dire snobbato, ma tralasciato di mettere in evidenza l'importanza di questo evento che ha trainato l'economia locale in questo periodo. I risultati di queste tre settimane principali? Guarda, nella settimana dell'aerobica l'Italia ha conseguito diverse medaglie, quindi un motivo di soddisfazione anche per la Federazione Ginnastica d'Italia. Nell'acrobatica hanno fatto incetta le scuole classiche e tradizionali di questa specialità che sono Russia, Israele e Portogallo. Grazie a tutti.